gentili amici numismatica fordarmis benvenuti sul canale oggi ho avuto il piacere di esaudire la richiesta di un follower milo che ringrazio per l'interesse e sostegno verso il canale mi ha chiesto appunto di parlare della croce di ferro decorazione tedesca già istituita nel 1813 sotto l'impero prussiano ne ho un esemplare in particolare una croce di ferro di seconda classe per cui riesco a descriverla la caratteristica di questa decorazione che sostanzialmente non è cambiata dal data di istituzione 1813 è una decorazione spartana fatta appunto di un cornice in ferro è una croce patente cioè una croce a braccio uguale anch'essa di una lega di ferro è assimilabile a quello che poteva essere per noi la croce di guerra valore militare come vedete non è altro che una croce in ferro il metallo brunito al centro vediamo la v e il kaiser guglielmo la corona sotto la data 1914 la caratteristica di queste medaglie che differiscono a seconda della data di cui è la guerra diciamo di cui questa è appunto della prima guerra mondiale in epoca nazista troverete il 1939 al posto della v del kaiser guglielmo la svastica il nastrino è un nastrino nero con bande bianche l'altro lato abbiamo 1813 la data di istituzione della decorazione e fogli di quercia sopra la corona il soldato che veniva decorato con la croce di ferro di seconda classe poteva poi ambire a essere decorato con la croce di guerra di prima classe era una sorta di spilla più grande con le stesse caratteristiche della croce di guerra croce di ferro di seconda classe ma appunto spilla senza il nastrino lasciatemi poi consigliare un libro e un film un libro in particolare è ovviamente non poteva essere che niente di nuovo sul fronte occidentale di remark vi consiglio anche le trasposizioni cinematografica di questo libro sia quella degli anni 80 sia il film più recente e in particolare lasciatemi consigliare il film croce di ferro difficile reperibile ma l'ho trovato su youtube in particolare questo film descrive come il soldato meritevole potesse poi accedere a essere decorato con la croce di ferro bene signori io vi ringrazio se questo genere contenuti vi piace vi chiedo il like e l'iscrizione al canale cari amici lasciatemi ringraziare per il sostegno che vi state dando il canale sta piano piano crescendo anche sul canale così di un tema così specifico come la numismatica e la medallistica grazie ancora e vi auguro una buona serata e vi auguro una buona serata